ciao bro ciao ciao come stai? sto benissimo sto mangiando la frutta fai bene la frutta fa sempre bene ragazzi accogliamo in chat Mida ha spaccato a Sanremo è arrivato secondo dopo Lazza comunque non è da tutti bro lascia stare il format è abbastanza chiaro ti presento un attimino i concorrenti carissimo Mida il primo è Summer un giovane promettente della provincia di Cuneo c'è una finta Alessandro Vivi smutati grazie mille per i 16 birds grazie mille poi abbiamo Giulia abbiamo Joao Cancelo e aspetta 1,2,3,4 abbiamo Antonio Joao adesso ti scrivo Alexa e poi abbiamo lui che è direttamente dal che cazzo sei bro? Franz può dire oggi sono tutti maschi ma no è uscita è uscita una ragazza ma come? non è che sono tutti maschi vabbè allora inizierei con qualcun altro inizierei con Joao Cancelo Joao Cancelo sei mutato smutati quando ci sei puoi farci sentire il tuo pezzo presentati un attimino nome con quello che fai velocemente per chi non mi conoscesse mi chiamo Joao Ratini ho 20 anni suono e canto da tanti anni perché vabbè è la mia passione principale però studio anche comunicazione digitale e social media all'università ti bacio sto secondo anno e mi piace scrivere canzoni e fare contenuti su TikTok dove canto Simona sei troppo fantastica sei una figa della madonna Simona te lo giuro mamma mia scusate eh dai dici pure cosa canti grazie mille alle foot per la sub cosa vorresti cantare? volevo fare una cover di Justin Bieber ok vai alcuni sono bravi eh vi avviso alexi mi ha sprutto fuori cazzo oh clap in chat clap un po' di casino per lui oh è una hit I'm better sleeping on my own tu do 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 mi vuoi valmi ma se solo farmi vale tu do 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 oh non imparo da ne fare che vi sa mi bisogna sul fondale dove non ho mal di male non mi viene mal di te mal di te mal di te bravo un applauso un applauso allora e siamo partiti col botto ho scelto Joao per partire col botto applausi Joao e secondo me hai sbagliato hai sbagliato qualche accordo anche io l'ho pensato non so anche io sulla strofa ho avuto la impressione sì qualche accordo è perché ti spiego non era programmato cioè io mentre la stavo facendo ho pensato ma se ci ficcassi no 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 ma no no ma avete capito cioè io ho pensato al mashup mentre la stavo facendo e quindi vale cosa ne pensi te non parla più di tanto però vabbè non è importante comunque vabbè abbiamo sentito il tuo pezzo Joao passiamo pure alla prossima persona siamo con Samer ciao Samer ciao ragazzi non farmi brutto sì sì tutto bene basta che non mi fai brutto bro no no bro vai tranquillo ok 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 sono 18 anni abito in provincia di Pavia e faccio musica da qualche anno e nulla di te e non hai mai smesso di pensare di smettere sì voglio dire ok e cosa canti te che genere rap ok ma basta Jinza ma carica non è male e Jinza voi spammate ma che cazzo volete vai la canto dopo Alexi link of elms link of elms ok 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 va bene va bene va bene ha spaccato il pezzo mi è piaciuto per me allora cioè mi sono un attimo innamorato dell'amico ti posso succhiare il cazzo e Mida dacci un parere tuo a lei invece un sacco la grinta spacca spacca non mi piace ci sono le orecchiali grazie mille si vede che ti piace cioè la tua passione lo sento mamma mia Anna che Anna Antonio ci sei? ci sei bro buonasera ciao bro piacere piacere è il tuo turno spiegati un attimino grazie mille Anna Valentini per la sub presentati pure sono Antonio vengo da Napoli e studio di giurisprudenza grazie grazie ok ok vai Antonio è tutta tua la scena porca troia porca puttana su su sulle mani sei maliziosa tutto quando ti andavo guarda questi dini parata stiglia stiglia ragazzi è buona è buona è buona con il figlio perfetto da tua mamma lo dico da dieci anni ok scusa bravo bravo aspetta let's go allora secondo me c'è un vincitore già per me facciamo entrare il prossimo Ertucano ecco qua Ertucano c'è Ertucano Ertucano presenti un attimino io faccio economia e scrivo testi bene ce ne frega il cazzo inizia pure a cantare ok allora fai presenta questo singolo è un po' genere pop infatti considerando gli altri un po' allegri c'è il mio proprio si 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 no oh scusa vai 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 va bene ci sta ci sta e mi ha fatto tanto male tanto che ritrovi non è mai stato banale ti ho sentito a Sanremo in quel tempio ti ho stretto forte ti ho preso da esempio oggi sono quattro anni che scrivo il pezzo di me il mio sogno l'ho scritto nelle note registrare un singolo contemare la notte dove tutto buio pesto perché noi siamo nati per questo tu non sai quanto è dura quando vai oltre le tue mura ti senti uno scarto per ore quando al tuo concerto in fila dalle otto per cercarti e per dargli torto quel destino che mi ha tolto ogni incertezza molti dicono che incontrare gli eroi non fa bene ma se nonostante tutto scrivo così quando ti mente guardo avanti e non mi importa più di niente bene peccato tu abbia iniziato a cantare no scherzo 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 no a parte dei scherzi c'era molta come si dice quando c'era si sentiva l'intestino c'era proprio dentro si sentiva e ci sta mi vuoi dare un tuo mi sono innamorato sono wow cioè proprio arte simona grazie così va bene raga si si non perché non voglio che sia troppo alta ok non c'è niente da dire la più forte cos'era è il sesto concorrente è il sesto concorrente una prova al sesto concorrente non ditemi che oretta a Berti perché impazzisco se la riconosco piacere chi sei? io sono B3 LMC N1 0 R no vabbè ok Berms presenta pure il tuo pezzo io canto tango di fanai ah un applauso a tanga vai tanga vai ma ora Dio va bene amore mio non sei di nessun altro e di nessuna io lo so quanto ti manco e chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire 75 gianni non ne sbaglia una ma per me ha vinto lui raga che è successo? è perso un extension mi saprò canta 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 continua disraspetto io mi incazzerai continua 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 io mi incazzerai è colpa sua è colpa sua e ormai ho perso tutto basta ma riprendilo fai un altro pezzo puoi cantare Shape of You di Ed Sheeran per favore tanto a cappella si aspetta ok vai basta basta vabbè un applauso un applauso a Berms un applauso a Berms grande Berms facciamo rientrare tutti eccoci qua eccoci qua siamo tutti siamo tutti siamo tutti siamo tutti allora ci saranno due eliminazioni ragazzi un'eliminazione sarà scelta da noi giudici e una dalla chat Berms sei il primo eliminato mi dispiace però rimani nel backstage ok Ertucano sei eliminato ma io al prossimo turno vorrò sentirlo stesso il tuo pezzo però sei off torneo ok e passiamo subito al turno successivo e direi di iniziare con João João vai Ertucano Ertucano beat mi piace quando balli scaffa per casa un'area superiore come fossi una regina però un po' regina lo sa non devo ammettere lo sconfitto a me stesso per poter uscire con te no, non cazzarti con me sto messo al traffico non mi riesca a muovere sto per arrivare e tira fuori dei parò e a distinggo la mano ci sentiamo altrove suolto non mi testa tipo un scoperone mozziconi delle sigarette per strada ci vediamo come zombie finici un'altra giornata mamma che stanca del lavoro e vuole un avvocato io che sono una fia come una tipa dentro la mia stanza e stai con me ci guardiamo un fio di fummi una cio spiogando pezzi tristi stiamo in fio non guardarmi così io ti attiro fuori nei marò e ti stringo la mano ci sentiamo altrove ci alziamo in testa tipo un superore mi perdono i tuoi occhi so che non te lo dirò guardami in faccia e dimmi che mi vuoi che ancora Ertucano ti diverti a giocare con il cuore e io ti attiro fuori le parole ti stringo la mano ci sentiamo altrove ci alziamo in testa ti penso che erore io preferisco sempre il tucano ti avviso però molto bravo molto bravo molto bravo molto molto bravo brava brava e Bams vuoi dire qualcosa? no bene Mida vuoi dire qualcosa? per me è João numero uno spaccato tutto veramente bravo João passiamo al prossimo grazie per aver cantato anche questo turno li eliminati che erano loro due è arrivato il suo momento Antonio è il tuo momento facciamo tanto male tanto che ritrovarmi non è mai stato banale ti ho sentito a Sanremo in quel tempio ti ho preso da esempio oggi sono quattro anni che scrivo per ore ma mai l'ho già sentita ma l'ho già sentita come una serpia tucano ci puoi cantare un pezzo che non l'avete già sentito prima magari? un altro e mi ha fatto tanto male tanto che ritrovarmi non è mai stato banale ti ho sentito a Sanremo in quel tempio ti ho stretto il forte ti ho preso da esempio oggi sono quattro anni ma l'ho già sentita questo? come non c'è sentita? no l'ho già sentita aspetta che riparto aspetta che riparto beh vediamo un altro pezzo e mi ha fatto tanto male tanto male ma l'ho già sentita ma l'hai cantata già? ma devo no Vezza allora state facendo un casino boy ragazzi no scusate loro dietro devo cantare un'altra canzone eh sì e il tucano prova a cantare un pezzo di ultimo no 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 prova a cantare basta con la coca italiano vero bevo caffè con la moca vita vera street life fida loca marocco non fumo roba spagnola la mia tipa vice prima tagliavo crack adesso ho solo business la mia vita un thriller Milano con due stripper pasta montagna nera in silenzio come un killer ah sì la scopo è dopo mi ringrazia ho regalato oh bro a Roma c'è solo la dark Francesco Toni capitale la tro eh sì basta bro perché io non mi nome è fan Toni perché vendeva niente solo solo adesso facciamo entrare il prossimo artista Summer subisci Giulia vai fate un pezzo che dura un pochettino meno tipo un minutino non di più perché altrimenti è diventato troppo lungo forse per me ti regalerei con questo occhio che si prende non è niente grazie immobile fisso quell'immagine forse ti chiamerei ma me ne pentirei negli occhi sento solo vetri roti restano solamente vetri roti non ha capito che era un minuto forse non ha capito che era un minuto vabbè fine ho tolto un sacco di pezzi però va bene va bene si può dire che il timbre mi ricorda l'Od mi ricorda un po' oh vabbè io ho fatto sesso con l'Od quindi Toni le ho studiati per bene vai bro tira fuori pure il tuo pezzo allora vi canto una canzone che è dedicata a mio nonno si chiama 1944 così in peso bro grazie mille Lellino ho perso la via giusta da quando lui se n'è andato maledetta quella notte buia scura di febbraio addosso all'unico rimasto che mi sta mangiando ed è così pesante non averti salutato ecco il brutto quando son da nonna e lo sentente tra tutte quelle stelle ho perso la via giusta da quando lui se n'è andato maledetta quella notte buia scura di febbraio addosso all'unico rimasto che mi sta mangiando ed è così pesante non averti salutato ecco il brutto quando son da nonna e non sentire il tuo solito retiro al mio fianco sei l'unica persona ad avermi dato la forza avrei sacrificato se sei tu e la famiglia ti ha amato guarda che spacca una cifra è fortissimo sto piangendo grazie mille bro bravo bro davvero bravo grazie rosso bravo 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 al finale rosso ma per me per me Omar Omar di qualcosa di qualcosa no ma ok minchia era bellissima la canzone poi cosa successe è morta la canzone è bella ha cantato ha cantato benissimo grazie mille Omar è bella no davvero è bella davvero bravo Omar vabbè Antonio mi spiace ma sei l'eliminato di questo turno ah giusto mi da è abbastanza netto che Antonio sia l'eliminato del turno si si sono assolutamente accorto ok bravo bravo Antonio è stato un piacere ti metto nel backstage non andartene via rimani nel backstage devo eliminare uno tra loro tre scegli la chat qua la chat ha scelto eh l'eliminazione mi spiace a malincuore dirlo mi da l'eliminata è Giulia eh ma Giulia eh ragazzi c'è Giulia eliminata chi è eliminata è Giulia cansello Summer ha eliminato Giulia la chat ha scelto quindi la finale tra gioco cansello e Summer inizia a gioco cansello Summer vai stupiscici ma ragazzi è fortissimo lui spacca la cifra oh cheat un minuto già superato il minuto porca puttana come cazzo lo blocco porca puttana come cazzo lo blocco come dico ok 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 a posto a posto io non esprimo nulla faccio ad entrare direttamente l'altro bro diciamo dopo ti bacio grazie mille per la sub sgrallefer frate se canti Michael Bush per me hai vinto tu vai sgralle ho di meglio ho di meglio che cazzo è che canta? che canzone è? che troia che troia ragazzi di chi era questa canzone è Sheeran? no è Sheeran Bruno Mars Bruno Mars è Bruno Twix Bruno Twix ok 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 fai delle battute meglio delle mie certe volte sai questa l'avrei detta io dunque io direi che questo è sceglie solo la chat quindi non scegliamo noi la chat sceglie il vincitore tra Summer e João Cancelo direttamente dal Manchester City eh ragazzi dopo tantissima attesa c'è soltanto un vincitore niente porca puttana c'è soltanto un vincitore e niente Agnellino adesso ti ringrazio ma porca puttana Agnellino niente aspettiamo il vincitore è soltanto uno è esclusivamente uno grazie mille Agnellino adesso ti ringrazio davvero ragazzi tre due siamo andati a montare troppo figa sei il vincitore un applauso al Tucano un applauso al Tucano un applauso al Tucano ragazzi in chat sei il vincitore morale che un applauso te lo meriti bro te lo meritavi il vincitore il vincitore tra dov'è dov'è Summer il vincitore tra Summer e João Cancelo è è Tucano è Tucano continua a vincere blu non capisco davvero posso ringraziare i miei amici che certo certo mi hanno fatto entrare bomba no ragazzi a parte gli scherzi il vero vincitore di oggi è João un applauso ragazzi in chat un applauso a João un applauso a João grazie ragazzi io comunque avrei votato a João con tutto rispetto a Summer che sento la fotta grazie grazie bravo João però la gag di João è imbattibile cioè tipo si è messo una cravatta capito sono in macchina se no mi stai dovevi investire un tipo eri in macchina porca puttana gli bisogna pensarle tutte comunque comunque vabbè João è il vincitore di oggi Summer spacchi complimenti comunque a Summer fortissimo grazie ragazzi Summer io ti saluto bene ragazzi il vincitore è stato deciso mi ha fatto piacere avervi qui vi saluto quindi grazie mille João per essere passato grazie mille Summer ciao João grazie mille a voi ragazzi ciao Summer terra terra